Civolone di Fabio Fazio a che tempo che fa. Ieri sera, domenica 3 novembre, Carlo Verdone è stato protagonista di un ampio spazio in cui non solo ha presentato la terza stagione della sua serie tv, Vita da Carlo, che dal 16 novembre torna su Paramount+, ma si è lasciato andare a racconti e aneddoti collezionati in 40 anni di carriera, alcuni davvero esilaranti. Il regista, appassionato di musica, è entrato in studio sulle note di un brano di David Bowie ed è stata proprio quella l'origine della gaffa. Hai visto come ti abbiamo accolto? Con una canzone di David Bowie, tu ami molto questo artista se non sbaglio, l'ha detto il conduttore, mentre l'ospite annuiva. Hai mai conosciuto David? Ha chiesto poi Fazio, sorpreso dalla risposta affermativa di Verdone. Sei amico di Bowie? Hai incalzato il padrone di casa davanti al volto perplesso dell'attore romano, visto che l'iconico cantante inglese è morto ben otto anni fa. Ero amico e ha risposto Verdone, molto bravo ad andare avanti senza far pesare lo scivolone, che però non è passato inosservato. Parlando di David Bowie, Carlo Verdone ha raccontato il loro primo e unico incontro, avvenuto a Milano a casa di Gianni Versace. Un'amicizia che è durata una sera, se vogliamo ha ricordato, proseguendo con un racconto comico su quanto accaduto, ho convinto Margherita Baia ad andare al concerto dei Team Machine, il gruppo di Bowie, al Teatro Smeraldo di Milano. Dopo il concerto andiamo a casa di Versace dove ci ha raggiunto. Margherita diceva non so con chi parlare, perché non sapeva una parola di inglese, e a un certo punto si leva la giacca. Prende il suo giacchetto e lo appoggia sul divano. David Bowie stava là, parlava del più e del meno, e si mette seduto proprio sulla giacca di Margherita. Il resto del racconto è già storia. E voi cosa ne pensate?